Sabato l'arrivo a Prati di Tivo, la tappa regina della Tirreno e ieri la partenza da Castellalto. Per l'Abruzzo la Corsa dei Due Mari ha regalato spettacolo a piene mani. Sulle rampe di Prati ha vinto lo sloveno Pogaciar, cioè il probabile trionfatore della corsa che si concluderà domani con la crono di San Benedetto. Ma ha rappresentato anche un investimento importante in immagine e promozione. Tra l'altro sono state due giornate favorite da un cielo terzo, accompagnato da un gran sasso imponente e innevato. Come dire, il miglior biglietto da visita per la provincia di Teramo e per l'intera regione. Sentiamo l'assessore regionale Guido Liris e il sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia. La soddisfazione e la bellezza di arrivare in cima e vedere qui a Prati di Tivo il versante dolomitico del gran sasso. È uno spettacolo per coloro che hanno seguito la corsa da casa, ma anche per noi amministratori che dobbiamo vendere questo prodotto all'esterno. Una tappa riuscitissima, una bellissima giornata nonostante le difficoltà del Covid. Emozioni enormi, grande giornata di sport, grande giornata per il gran sasso, per Pierracamela e per l'intero Abruzzo direi. Lo sport arriva sulle nostre montagne, accende un riflettore importante su questi territori che in un momento così particolare entrano nella casa di tanti italiani e di tante persone del mondo. Quindi una grande giornata di promozione e un modo per far sì che coloro che non ancora conoscevano questi posti possano arrivare e li possano conoscere e quindi questi posti arrivano nelle loro case.